Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany Oggi, come avete letto dal titolo, parliamo di Neil Gaiman perché ci tenevo particolarmente, lo trovo anche un autore perfetto per il mese di ottobre e quindi, insomma, non potevo esimermi dal contribuire anche io con quelli che sono i miei pensieri riguardo questo che è davvero uno dei miei autori preferiti Ma come si comincia a parlare di Neil Gaiman? Come si farà a chiudere in un solo video un percorso così ricco e prezioso per l'umanità? E la risposta è che non ne ho la più pallida idea, ve lo giuro Visto che Halloween si avvicina, ottobre è il mese perfetto per scrollarsi di dosso un po' le foglie dei mesi passati e concedersi qualche brividino in più Insomma, vi consiglio un po' di magia da parte di un autore che secondo me è uno dei più interessanti sul panorama mondiale che è attualmente ancora in vita, che rimane una fonte di ispirazione penso per chiunque si avvicini al genere fantastico e che ci ha restituito un'immagine dell'infanzia molto nostalgica ma allo stesso tempo viva e che ci ricorda che forse c'è stata una conoscenza in quel periodo che noi forse ogni tanto tendiamo a dimenticare o che abbiamo del tutto smarrito ma che è estremamente importante Cioè, Neil è una di quelle figure alle quali tu finisci per volere bere per forza anche se ti spaventa a morte, anche se ti fa arrabbiare tanto in alcuni casi ma soprattutto perché ti fa rimpiangere un periodo della vita che lui rende davvero mitico e che tu però non puoi più rivivere, non puoi più toccare In fondo l'infanzia è un periodo che tutti noi tendiamo a mitizzare e che però purtroppo non potremo mai riavere indietro e nessuno ce lo restituirà mai Quindi, mentre noi cerchiamo di capire come fare i conti con l'età adulta grazie a Neil Gaiman veniamo trasportati in un mondo che è simile al nostro molto simile al nostro nel quale però, e in qualche modo nei suoi mondi vediamo coesistere le nostre più grandi paure, i mostri le creature che provengono dai miti e dal folclore ma anche i nostri sogni, le nostre speranze e le cose buone che noi portiamo insieme a noi Esplora quello che è il nostro quotidiano come se fosse una storia mitica Neil Gaiman crea universi che non hanno dei confini definiti dove nulla è chiaramente quello che sembra e che anche il giudizio è sempre un po' sospeso e sono confini veramente molto ampi tanto quanto è ampia la fantasia di quest'autore perché lui ha tinto davvero a un sacco di fonti dai miti alle leggende passando per il folclore tradizionale di diverse numerose civiltà passando per le tradizioni popolari e alle fiabe, alle favole ma anche alla religione e quando parlo di confini sfocati è perché sfocato è soprattutto il suo stile che tende all'indefinito Neil Gaiman infatti tende più a suggestionare che a spiegare e infatti spesso la sua scrittura e le sue opere vengono paragonate o al sogno o all'allucinazione che più o meno spesso coincidono perché infatti le sue sono strutture fiabesche fondamentalmente e infatti nelle sue storie ci sono proprio queste atmosfere molto etere, molto oniriche ma allo stesso tempo sa creare mondi molto crudeli e molto spaventosi e solo lui riesce forse a rendere in maniera così brillante questa unione la sua produzione letteraria si incentra su tanti temi ricorrenti tra questi soprattutto nella sua produzione per l'infanzia ci sono sempre l'avventura, il sogno, la magia e l'accettazione ma questi sono davvero solo alcuni dei temi di Gaiman e la sua produzione è veramente vastissima ha scritto veramente tanto quindi quello che voglio fare oggi è ripercorrere qualche opera soprattutto per l'infanzia e per i ragazzi che vi suggerisco di leggere e che secondo me sono tra le sue produzioni più interessanti ma non solo, bisognerebbe leggere davvero tutto e prima che me lo scriviate non ci sarà Sandman in questo video so che Sandman è là ma non parlerò di Sandman perché oggi mi concentro soprattutto su qualcosa per i ragazzi ma non solo e anche libri che parlano di infanzia e non solo sarà tutto un po' e non solo questo video come nel Gaiman fondamentalmente la prima opera della quale vi parlo è un libro al quale io sono molto legata ed è anche stata trasposta in un film veramente adorabile che secondo me è molto apprezzabile per chi ama l'opera non ne coglie appieno il fascino ma stiamo parlando di Coraline il libro racconta la storia di questa casa dove abita Coraline dove ci sono 13 porte che permettono di entrare ed uscire dalle stanze ma ce n'è un'altra più misteriosa la quattordicesima che dà su un muro di mattoni che cosa ci sarà oltre quella porta? che cosa ci sarà oltre il muro di mattoni? oltre quel muro ci dovrebbe essere un appartamento vuoto ma sarà vero? perché un giorno Coraline che è una curiosona decide di scoprirlo e attraversando la porta si trova davanti a un corridoio oscuro che porta a una casa completamente identica alla sua dove abita una donna che assomiglia anzi sembra proprio uguale a sua madre tranne che al posto degli occhi ha due bottoni cuciti e da questa scoperta inizierà la sua avventura che la porterà in un mondo molto misterioso molto inaspettato e a tratti decisamente spaventoso adoro questo libro per tanti motivi nel senso che è una favola dalle tinte molto scure i toni apparentemente sembrano molto scuri ma con la classica leggerezza e quel mai di troppo al quale ci ha abituati Neil Gaiman risulta una storia molto piacevole molto misteriosa e anche molto spaventosa Coraline è un personaggio che rimane nel cuore è un personaggio strano ma nel senso buono e migliore che questo termine può coltivare è intelligente è molto curiosa è determinata e soprattutto ama l'avventura non riuscirebbe mai a stare lontano da un portale tra due mondi è troppo curiosa per farlo e troppo amante di queste scoperte per poterlo fare però è anche un modello di eroina molto positivo Coraline infatti non ricorre ad aiuti esterni non c'è mai qualcuno che la salva non c'è mai qualcuno che fondamentalmente le risolve i problemi Coraline scopre che i problemi può risolverseli da sola la sua è una storia spaventosa perché ci troviamo di fronte veramente a situazioni molto stranianti ma anche molto verificanti eppure anche quando sbaglia Coraline non si fa intimidire Coraline non si abbatte anche se a volte la paura prende il sopravvento riesce a saltarne fuori c'è tanto mistero in questo mondo popolato da creature molto strane molto scure e da strani personaggi che da un lato sembrano un'allucinazione intangibile ma che sono spaventosamente reali che ovviamente incutono timore a Coraline quindi a noi ma che allo stesso tempo rappresentano anche la scoperta il superamento delle difficoltà credo che Coraline sia soprattutto un libro che descrive quel momento esatto quel passaggio tra l'età infantile quindi l'essere bambini e la primissima adolescenza è un momento molto preciso non è dilatato nel tempo è anche difficile da afferrare è anche difficile cogliere quando questo avviene però è quel momento dove noi scopriamo e iniziamo a pensare alla nostra identità iniziamo a ragionare e a definire quello che siamo è un libro che ha uno dei cattivi forse più spaventosi mai visti giuro, tuttora mi terrorizza la sua immagine però è un libro anche che rappresenta soprattutto la scoperta e anche il viaggio verso la scoperta della propria identità cuore infiniti per Coraline non saprei neanche come dirvelo in un altro modo passiamo oltre perché ovviamente so già che questo video verrà lunghissimo e vi parlo di The Graveyard Book ovvero il figlio del cimitero Nobri Owens detto Bode rimane orfano dopo il brutale assassino della propria famiglia per mano di Jack del Mazzo lo spirito della madre però lo affida a due coniugi che però sono defunti e infatti sono due fantasmi che lo crescono insieme ad altre creature soprannaturali in un cimitero e Bode cresce insieme a tutti i suoi amici e compagni del cimitero a queste strane creature che lo popolano grazie proprio a un dono della morte che permette a lui di comunicare con i defunti e lui sa che dietro le porte del cimitero nessuno potrà mai fargli del male ma la tentazione di oltrepassare i cancelli e di vedere il mondo fuori sono veramente molto forti perché Bode è vivo e vuole conoscere le persone vive e infatti una volta oltrepassato il cancello scoprirà da un lato l'amicizia di chi è come lui ma dall'altro lo attende qualcosa di molto molto pericoloso questa è ovviamente una di quelle favole dalle tinte più dark che siano mai state scritte con tantissimi elementi che normalmente farebbero storcere il naso in una storia per bambini si parla di morte, di fantasmi, di cimiteri, stragi familiari, violenza cioè diciamo che non sono temi che vanno proprio proprio fortissimo in questo ambito però Gaiman è incredibile cioè Gaiman può tutto come sempre lui riesce a farci immergere in questa atmosfera super gotica e molto scura mescolando a queste tinte un po' più cupe la sua solita ironia che è sempre adorabile e mettendoci anche un pizzico di tenerezza perché Bode è uno dei personaggi più teneri che incontrerete mai nella vostra vita letteraria che ovviamente non può guastare mai perché Bode ha quella forza che solo l'innocenza e la purezza conferiscono ad una storia del genere e come forse in pochi altri libri di Gaiman per ragazzi questo libro ha soprattutto una caratterizzazione dei personaggi incredibile è un cast abbastanza vasto adorabile è veramente tutto strano tutto cupo e tutto tenero ma non solo sarà anche molto cruento a tratti sarà molto spaventoso ma c'è questa sorta di bilanciamento tra cupo e tra luce e buio sempre nei racconti di Gaiman che lo rendono unico perché lui riesce a ottenere un equilibrio che non sfocia mai nel troppo da un lato o troppo dall'altro tra i miei suggerimenti non poteva mancare l'ultimo libro che io ho letto in ordine di Neil Gaiman perché l'ho letto due anni fa sì devo un po' recuperare un pochino di cose però questa è la mia ultima lettura in ordine cronologico che è The Ocean at the End of the Lane ovvero l'oceano in fondo al sentiero e quando io ho letto questo libro ho pensato una cosa può un solo libro essere un manifesto dell'infanzia che allo stesso tempo ti risulta spaventoso ma anche magnetico e sì perché c'è Neil Gaiman dietro cioè The Ocean at the End of the Lane ovvero l'oceano in fondo al sentiero scusatemi non l'ho letto in italiano quindi per me risulterà difficile dire l'oceano in fondo al sentiero descrive perfettamente quell'equilibrio tra la malinconia ma anche la magia di chi ripensa all'infanzia e vi leggo una frase molto bella adesso ti dico una cosa importante nemmeno gli adulti dentro hanno l'aspetto da adulti fuori sono grandi, grossi, sventati, sicuri di sé dentro invece hanno l'aspetto di sempre quello che avevano alla tua età la verità è che gli adulti non esistono non ce n'è nemmeno uno in tutto il mondo The Ocean at the End of the Lane racconta la storia di un uomo di mezza età che deve ritornare alla casa della sua infanzia in occasione di un funerale e quindi anche rincontrare tutta la famiglia e con tutte le complicazioni che questo porta con sé lui guida fino alla fattoria di Hamstok e bussa la porta gli apre una vecchissima signora che dice di ricordarsi di lui e infatti questa fattoria è la fattoria di Letty Hamstok che è una bambina che lui aveva conosciuto quando aveva sette anni e mentre in questa fattoria si siede ai bordi di uno stagno che questa bambina Letty gli aveva descritto come se fosse l'oceano e gli torna in mente quel periodo cioè quando aveva sette anni e ha un periodo che ogni volta che lui si allontana dalla fattoria dimentica e non riesce a ricordare e dovrà ripercorrere cose che aveva dimenticato cose che non gli sono chiare ma anche affrontare qualcosa che nel suo passato lo ha messo in difficoltà per dirla L'oceano in fondo al sentiero è un libro molto intimo molto personale però che ci parla in una maniera molto universale anche se noi abbiamo vissuto tutti esperienze diverse nella nostra infanzia fino alla fine noi non sappiamo dove questo libro ci voglia portare ed è una sensazione che ci fa sentire smarriti ma che allo stesso tempo ci incuriosisce perché non sappiamo che cosa accadrà dopo non sappiamo che strada dovremo percorrere è un libro che è sfuggente in questo senso è inafferrabile proprio come l'infanzia che abbiamo perduto eppure allo stesso tempo riesce a descriverla con colori molto vividi con colori accesi e brillanti perché anche se nella nostra mente i ricordi possono sbiadirsi non si cancelleranno saranno sempre da qualche parte e proprio come un bambino ci fa riscoprire quella sensazione di stupore di fronte alla scoperta anche di piccole cose perché per un attimo noi leggendo questo libro mettiamo da parte tutte le nostre ansie le nostre paure da adulti e tutto ciò che ci spaventa a morte fondamentalmente dell'essere cresciuti e di dover affrontare l'età adulta come appunto la morte in primis come le responsabilità il tradimento, la violenza insomma tutte queste cose qui ed è bello tornare proprio su quel sentiero so che l'ultimo titolo del quale vi parlo oggi non è un titolo per ragazzi anzi però allo stesso tempo mi sembrava stupido non metterlo perché in fondo American Gods è il primo libro che io ho letto di Neil Gaiman e del quale mi sono innamorato follemente da qui è iniziato tutto quindi insomma cioè potevo non parlarvene magari sì ma non sarà così perché secondo me rimane comunque un testo da leggere nella bibliografia vastissima di Neil Gaiman perché? perché ci arriviamo dopo American Gods è la storia di Shadow è un ex carcerato che viene ingaggiato dal misterioso Wednesday come guardia del corpo e scoprirà che Wednesday non è altro che Odino il dio e lo accompagnerà in questo viaggio per gli Stati Uniti dove andranno alla ricerca di altre divinità emigrate negli Stati Uniti che sono state trasportate negli Stati Uniti dalla fede dei popoli nel corso del tempo e lo scopo di tutto questo viaggio sarà convincerli a indire una crociata contro i nuovi dei che stanno invece conquistando i cuori elementi dei fedeli si tratta di divinità un po' diverse però sono gli dei del momento sono la tecnologia le tendenze i media quindi cose ben diverse ai quali forse gli dei non sono tanto preparati il tema delle divinità in declino era già apparso in Sandman ma qua secondo me trova il suo compimento forse migliore e lo dico senza che mi insultiate ma secondo me qua è proprio l'apoteosi dell'incapacità e anche forse della difficoltà di riproporsi o di trovare un'alternativa a queste nuove divinità che hanno gli dei tradizionali gli dei non sono più nutriti dalla grandezza della fede che riponevano in loro tutti gli uomini perché ora sono stati attratti da altro e quindi si sono adattati a vivere in contesti un po' più ridimensionati invece i nuovi dei che vengono adorati dagli ex fedeli stanno vivendo il loro momento di maggior splendore è la loro età dell'oro e la cosa pericolosa di questi nuovi dei è che sono misteriosi sono suadenti sono esteriormente patinati ma nascondono tanto al loro interno e infatti cercheranno di tentare Shadow non di distruggerlo ma anzi portarlo dalla propria parte e assoggettarlo in questo caso questo è un libro che sicuramente parla tantissimo della lotta tra il bene e il male ma credo che forse il tema fondamentale sia l'ambiguità è ciò che non è mai del tutto chiaro perché è molto difficile nella vita di tutti i giorni vedere i confini reali anzi io penso che i confini spesso non siano così netti siano molto più complesse le vicende che noi affrontiamo eppure sembra così facile capire se una cosa sia giusta o sbagliata e proprio questo confine di nuovo molto labile questa ambiguità spesso non è solo su questioni eterne ma forse è una parte caratterizzante dell'essere umano e si nasconde dentro il nostro animo forse è una parte essenziale di noi stessi perché non tutti abbiamo così chiaro cosa pensiamo cosa siamo da che parte stiamo non è sempre così facile e American Gods esprime perfettamente questo questo tema insomma direi che per oggi visto che verrà già un video lunghissimo la finisco qua però credo che insomma uno dei grandi insegnamenti di Gaim è che innanzitutto non ci sono assolutamente confini alla nostra fantasia non ci sono limiti a quello che noi possiamo immaginare possiamo scoprire che esistono storie meravigliose o che possiamo inventarle semplicemente guardando un tombino oppure ripensare alla nostra infanzia scoprendo che non siamo mai cresciuti del tutto soprattutto quando leggiamo i suoi libri niente io la finisco qua se no poi inizio a fregnare e inizio a sproloquiare secondo me leggere nel Gaiman vi farà bene fa bene a tutti quelli che lo leggono perché è davvero un autore che ci insegna quanto basta può essere la nostra immaginazione come forse in pochi sanno fare quindi niente io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se avete letto nel Gaiman quali sono i vostri libri preferiti ci sentiamo giù nei commenti io come sempre spero di avervi tenuto compagnia con questo video e vi ringrazio per aver passato un po' di tempo insieme a me e niente ovviamente se non l'avete fatto ricordatevi di iscrivervi e giù nell'info box trovate tutti i link per le mie affigliazioni per dare una mano al canale io direi che noi ci vediamo al prossimo video e buona apocalisse a tutti ciao ciao